Libertango, che è musicista, Astor Piazzolla, lontano 1974, mi chiamò questo personaggio e dice «Sei libri 23-24?» «Sì, con chi devo suonare?» «Un certo Astor Piazzolla!» «Astro Piazzolla!» «Va bene?» Scrive. La sera andrei a suonare e c'era il grande Marco Ratti. Dissi «Marco, per caso ci sei anche tu di 23-24?» Dici «No, ma per chi è?» Un fisarmonicista, Astor Piazzolla, Tullio. Astor Piazzolla, il più grande musicista del Novecento. Non suona la fisarmonica, suona il bandone. «E cos'è questo bandone ignorante?» Non lo sapevo. Arriva il giorno e arriva Astor Piazzolla. Lui mi guardò e dice «Scusa, io ho mai usato la batteria?» Nel tango non esiste la batteria. Capito? Ma dico «Cosa devo suonare?» Apre questa scatola di legno, tira fuori un bonsai della fisarmonica. Era il bandone, un piccolo. Appoggia il piede sulla sedia e incomincia a fare degli archi. Attacca. Continua, bellissimi. Continua. Dopo quattro battuti dice «Bueno, esto è libertà!» E questo è il chalos che conoscono in tutto il mondo. E questo è il chalos che conoscono in tutto il mondo.